eccoci qua cari amici di eh Orizzonte Scuola TV. Mh tra poco avremo con noi eh il presidente di commissione della commissione cultura eh e istruzione al senato il senatore Roberto Marti eh esponente della Lega eh questa intervista arriva eh dopo l'approvazione in prima lettura eh da parte del eh senato della Repubblica del decreto mille proroghe che contiene delle eh misure importanti per il mondo scolastico cercheremo di capire in questa breve intervista con il eh presidente di commissione che cosa accade per la scuola ci sono purtroppo anche in questo caso non mancano delle polemiche su questo ma faremo il punto proprio con eh Roberto Marti ecco lo mandiamo subito in onda buongiorno presidente grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi buongiorno eh grazie per l'opportunità. Ecco appunto eh presidente cerchiamo di fare chiarezza su quello che è stato approvato per quanto riguarda la scuola. C'è un emendamento a sua firma eh molto importante che riguarda il concorso di dirigenti scolastici duemila e diciassette. Ecco abbiamo anche l'occasione di fare chiarezza su quanto è stato approvato. Sì diciamo eh per iniziare a fare chiarezza eh diciamo iniziamo a salutare tutti i telespettatori e tutti quanti voi presentandomi dicendomi che eh c'è da settembre dal venticinque di settembre ricordo eh i nostri amici e i telespettatori e i nostri cittadini nel mondo della scuola ma non solo che c'è un ciclo nuovo. L'italiani hanno scelto hanno scelto di eh diciamo di votare dopo dodici anni un governo politico. Hanno scelto di votare un governo politico il primo governo eletto dal popolo che ha una maggioranza parlamentare ben delineata che non è un elemento di poco conto nel mondo della scuola nel mondo delle attività produttive nel mondo diciamo dell'ambiente nel nel mondo in generale della nostra Italia. Da eh diciamo novembre in poi come voi sapete si sono formalizzati oltre che col governo eh i sottosegretari e anche i presidenti della commissione. Io ho l'onore di rappresentare per la Lega la commissione come ha detto lei cultura pubblica istruzione e questi mesi abbiamo lavorato abbastanza lavorato abbastanza con poche esposizioni. Io ho visto nel mondo della scuola ma non solo tante persone informarsi buttarsi diciamo nei eh nelle diciamo nei ricordi eh parlare di situazioni mentre noi abbiamo tentato di approfondire rievocare lavorare e trovare le condizioni più giuste per entrare nel mondo reale. Quello che diciamo è fatto di un governo che si assume la propria responsabilità nel bene e nel male facendo delle cose giuste ma sicuramente anche delle cose sbagliate a volte magari senza volerlo. Abbiamo lasciato alle spalle come lei ha detto in prima lettura ieri il decreto in aula mille proroghe eh dove c'è tanto diciamo c'è tanto dopo la il primo strumento che non abbiamo avuto alla camera è la legge di bilancio dove ci siamo potuti approcciare diciamo eh in maniera timida iniziando già un lavoro su tanti temi ma che non sono riusciti a essere focalizzati come volevamo nel mondo della scuola particolarmente ci siamo ripromessi il primo strumento utile e in qualcosa l'abbiamo trovato all'interno del mille proroghe. Ho tentato di dare un'immagine della della commissione che sia diciamo di unitarietà di tutte le parti politiche anche delle opposizioni ma chiaramente lavoriamo con una maggioranza e con quella maggioranza con tutte le espressioni dei partiti che la compongono dal mio a Fratelli Italia Forza Italia abbiamo tentato di eh incardinare i primi provvedimenti utili che da un po' di anni diciamo sui social eh sulle chat degli insegnanti sulle chat eh diciamo del mondo della scuola perché parliamo del mondo della scuola ma anche del mondo della cultura e di tante altre cose dello sport della pubblica amministrazione c'erano e una delle battaglie storiche che le conosce bene della Lega era quella del eh eh del concorso duemila e diciassette dove noi ci siamo ritrovati a sentire tante situazioni con pendenze di contenzioso amministrativo e penale e quello penale e questa soprattutto amministrativa dava delle forte instabilità per le assegnazioni già dal prossimo anno scolastico abbiamo inteso con questo emendamento concordato con la maggioranza con non pochi problemi diciamo di pareri di diciamo di ehm di equilibri eh far transitare una situazione che era voluta e dovuta che eh specifichiamo non è una eh non è una sanatoria non è una eh una una un provvedimento che tende a fare diciamo ciò che qualcuno ha voluto mistificare il ministro Valditara ha eh seguito i lavori della maggioranza con molta eh accuratezza e ci ha sempre tenuto a dare un'impostazione del suo mandato di governo alla pubblica istruzione in maniera completamente diversa. Noi abbiamo dato quindi una prova d'accesso al con al corso concorso di cento venti ore con una prova finale e e quindi abbiamo dato l'opportunità diciamo non con commissioni create fatte senza neanche capire chi eh ci fosse in quella commissione delle professionalità di avere del merito di poter rientrare in una condizione non stiamo regalando nulla a nessuno stiamo ridando un'opportunità e dare chiarezza a questo provvedimento. Era dovuto non abbiamo potuto inserire diciamo all'interno ehm anche quelli del duemila e undici perché è tanto una domanda che sarebbe seguita quindi vado d'un fiato eh del duemila e undici non perché sono pochi perché non non andiamo nella tutela dei duemila rispetto ai cinquanta o i dieci o i quindici o i diciotto ma perché erano delle situazioni completamente differenti e le procedure legislative portano diciamo un impianto che quando segue poi le valutazioni dei vari ministeri delle varie eh delle varie dei vari segmenti dello Stato introdurre Sì eh abbiamo qualche piccolo eh problema nella registrazione della della dell'intervista eh il presidente appunto Roberto Marti eh ci stava appunto raccontando ecco mi sente presidente? Sì adesso la risento è andata via l'immagine per un istante. Prego prego prego. eh sul duemila e e undici diciamo la situazione è quella mi chiederà se ci sono altre opportunità le rispondo se ci sono delle opportunità pur parlando di due situazioni differenti eh sono in corso di valutazione. Mi taccio diciamo su questa prima parte ehm diciamo prima parte del del qualcosa di cui è stato fatto un po' di 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 chiarezza sul concorso duemila e e diciassette poi aspetto lei se vuole aggiungere altre domande sulla questione o su altre. No ecco eh presidente un tema eh sicuramente eh molto molto dibattuto eh riguarda anche l'ambito parlamentare è quello del dimensionamento eh scolastico ecco eh facciamo chiarezza anche su questo perché l'opposizione dice il governo taglia il numero delle scuole ecco in realtà eh per voi non è assolutamente così ecco facciamo un po' eh anche chiarezza su questo Guardi io eh di opposizioni che mh parlano di ridimensionamenti di dimensionamento e di tagli ho visto solo nella mia regione il taglio degli ospedali da parte di Emiliano. Diciamo questo governo è per diciamo genetica un governo che sicuramente non vuole tagliare ma vuole creare le condizioni diciamo per un'alta professionalità all'interno della scuola per i nostri ragazzi e i nostri figli. Per quanto riguarda il vincolo e il dimensionamento il vincolo non non è potuto rientrare nel mille proroghe per una serie di motivazioni ehm perché non era adeguatamente diciamo un tema specifico di un mille proroghe che poi noi dobbiamo comprendere anche se i provvedimenti sono calzanti con quella che è la realtà altrimenti non trovano la bollinatura da parte del capo dello stato ma soprattutto perché rientra in un'altra in un'altro contenitore importante che lei conosce che è il PNRR insieme al dimensionamento. Lei vi dirà che nel testo fra poco non troverete la traccia sul vincolo nel PNRR. Lì c'è una trattativa in corso con la comunità europea che il ministro Valditara e gli uffici e i sindacati stanno monitorando anche insieme al sottoscritto per valutare quali sono le condizioni diciamo ma vi assicuro che anche all'interno di questa diciamo sia del dimensionamento sia del vincolo stiamo lavorando per dare diciamo un assetto reale compatibile con quelli che sono i limiti e i vincoli che la comunità europea pone per riuscire a inserire tutto questo. Ecco possiamo dare qualche speranza cioè non voglio ecco generare illusioni ci mancherebbe presidente però ci sono filtrano segnali positivi da parte della commissione europea c'è apertura? Guarda Andrea io ho ipotizzato pur non conoscendoti diciamo nella mia prima apparizione diciamo con te credo di aver portato direttamente non proclami né sulle chat né su facebook né su comunicati stampa né su diciamo circuiti di nessuna natura di fare qualcosa che in tre anni nessuno aveva fatto piccola ma l'abbiamo fatta. Io ritengo che se continuiamo a lavorare così diamo delle risposte importanti non ho bisogno di pubblicità ma ho bisogno che questo governo segni sicuramente delle cose concrete quindi se mi sono permesso di anticipare la domanda sia sul vincolo sia sul dimensionamento perché sicuramente ci sono a diciamo dei tecnici che stanno lavorando sodo su questa situazione ci sono dei ministri che stanno lavorando altrettanto sodo sulla diciamo contestualizzazione di queste tematiche all'interno di procedimenti importanti come quelli del PNRR. Dire che ci riusciamo io sono certo che noi ci stiamo lavorando e siccome sono certo che quando c'è un lavoro importante è fatto insieme all'intera coalizione e alla maggioranza io sono convinto che cercheremo di dare le risposte giuste come abbiamo già in questo piccolo scorcio dimostrato. E allora presidente in conclusione allora le strappo la promessa di risentirci presto no? Su questo su questo argomento e magari di dare delle buone notizie ai nostri ai nostri utenti non solo sulla questione del vincolo ma anche sulla questione del reclutamento perché c'è anche una questione in ballo con l'Unione Europea. Quindi grazie per essere stato con noi per avere fatto chiarezza su temi molto importanti per il mondo della scuola. Grazie Andrea, grazie a tutti quanti voi e a prestissimo. Io sono a vostra disposizione. Grazie presidente, grazie abbiamo dunque eh trasmesso la l'intervista con il presidente della commissione cultura al senato il senatore Roberto Marti. Quest'intervista come tutte le altre le potete rivedere sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Grazie e a presto su Orizzonte Scuola TV.